Il percorso della gara di cupa del mondo è un percorso che conosco benissimo perché sono sulle strade dove mi alleno tutti i giorni l'ho provato 20 giorni fa per fare il servizio di ciclismo e anche se l'ho provato in condizioni atmosferiche abbastanza particolari perché aveva da poco nevicato ho scoperto un po' il percorso e ribalutato un po' le stesse situazioni che avevo avuto l'anno scorso in gara e sicuramente il pezzo decisivo è nel circuito più piccolo sul cubio per andare a dormire e la preparazione si sta svolgendo bene come da programma non ho avuto grandi giocchi sono appena tornata da una settimana alle Canare al caldo e adesso sono in partenza per la prima gara della stagione in Qatar una piccola gara tappe di tre giorni e dopo da lì andrò ancora per uno stage di allenamento con la squadra a Mallorca e il 7 di marzo inizia la stagione in Europa con la gara di Bressago poi una piccola gara in Toscana e poi Cittiglio che sarà il primo appuntamento a cui guarderò sicuramente particolare attenzione a cui guarderò sicuramente attenzione